L'Ecrifilario nasce a Roma nel 1969, un piccolo laboratorio che in breve diventa un atelier frequentato da nobiltà e professionisti romani, sino a raggiungere un legge internazionale. Mi piace confezionare ai miei clienti un abito costruito totalmente tutto a mano, nei minimi particolari, per regalare loro una grande emozione. Grazie